Se faccio il video, funziona? Ecco Poi abbiamo un gioco e vuole partire subito Meno 9 Ragazzi, vediamo la sua tattica La sua tattica di gara Via, non vuole partire Guarda che sorpasso Uno all'interno e uno all'esterno Guardate il distacco che ha preso Zayn in giro Una curva Sparito All'ESAO Per il tempo è andato Mi sa che si è fatto una bega Due lì, gli altri Non siamo già fuori Eccolo 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 Eccolo